Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di ernia del disco e quindi di quale possa essere il miglior materasso per risolvere questa problematica che è sempre più diffusa purtroppo. Bene, prima di tutto occorre sgombrare il campo dalle false illusioni e dire in maniera molto chiara che non esiste alcun materasso in grado di curare questa patologia. Naturalmente entriamo in un discorso un po' più serio quando c'è un problema importante alla colonna vertebrale. Quindi quello che possiamo sicuramente dire e garantire è che ci sono sicuramente dei prodotti speciali, dei prodotti che hanno determinate caratteristiche e che, certificati dal Ministero della Salute, possono evidentemente garantirci un sollievo, quindi in qualche modo aiutarci ad alleviare in maniera netta, in maniera concreta, quello che è un fastidiosissimo dolore e quindi lo stress collegato al problema dell'ernia del disco. Quindi questa è la premessa necessaria che va sicuramente fatta. Dopodiché aggiungiamo che uno dei materassi, senza andare troppo nello specifico in quelli che sono dei prodotti speciali come quello che vi facevo vedere poco fa, il materasso del benessere appunto, si possono trovare delle alternative come quella che vi sto facendo vedere in foto. Mi spiego meglio. Una soluzione può essere questa del materasso in memory e con molle insacchettate. Un accoppiamento ideale perché il memory, la lastra di memory, a portanza differenziata naturalmente, accoglie il nostro corpo, quindi in qualche modo si uniforma, si conforma perfettamente alla nostra schiena, alla nostra spina dorsale e successivamente però, poiché c'è una problematica seria, quella dell'ernia del disco, il nostro corpo viene sostenuto in maniera compatta, diciamo così, in maniera più importante dalla parte sottostante, quindi dal perimetro costituito dalle molle insacchettate. Inoltre un altro beneficio che può sicuramente determinare questo tipo di prodotto è la sua alta traspirabilità. Il cotone come rivestimento, il quale sapete ci garantisce, ci assicura un 15% in più di traspirabilità rispetto agli altri rivestimenti e le stesse molle insacchettate che fungono da camera d'aria, quindi lasciano traspirare, evaporare il sudore accumulato durante la notte e lo lasciano evaporare attraverso le molle, quindi lo lasciano fuoriuscire anche attraverso, vedete, la fascia perimetrale, la fascia in 3D che è quindi aperta e altrettanto traspirante. Bene, questo secondo noi è il consiglio migliore che possiamo dare a chi particolarmente soffre questa patologia, se vogliamo, quella dell'ernia del disco. Poi, come diciamo sempre, se hai altri tipi di problematiche che non siano quella dell'ernia del disco ma un frequente mal di schiena, lomboscialtagia, dolori articolari, muscolari, noi diciamo semplicemente questo, contattateci oppure venite in negozio perché sapremo sicuramente fornire, dire cosa fare per risolvere il vostro problema. Noi come azienda Morpheus siamo specializzati nel proporre, nel offrire soluzioni e quindi prodotti speciali, in particolare contro il mal di schiena. Quindi vi invito a venire in negozio a raccontarci, a spiegarci quali sono le vostre esigenze, le vostre necessità e il vostro problema sicuramente sarà risolto. Io con questo termino il video, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando ad un prossimo momento.